Trasferiamoci adesso dall'altra parte di Venezia. Lasciamo le fondamente nove per andare nel canale della Giudecca. Andiamo alle Zattori, andiamo alla Fondazione Emilio e Anna Bianca Vedova, realizzata all'interno dei magazzini del Sale, che sono poco prima della punta della Dugana, dove c'è l'atelier, l'esposizione dedicata a Emilio Vedova, a questo artista veneziano che ha segnato la pittura contemporanea. Alla Fondazione Emilio Vedova, sono passati dieci anni dalla sua scomparsa, è stata allestita una mostra particolare, una parete, un muro dedicato a Vedova, in cui sono stati messi insieme in un magma quasi indistinto 347 disegni dell'artista veneziano. Un percorso della sua carriera, iniziata a soli 15 anni e arrivata fino a un mese prima della sua scomparsa. Emilio Vedova ci racconta, Fabrizio Gazzarri, che ha curato questo allestimento, aveva sempre il pennarello in mano, perché in ogni momento disegnava, 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 disegnava la realtà che viveva, che lo circondava. I suoi disegni infatti sono un comunicare gli avvenimenti che caratterizzavano la storia, per cui abbiamo disegni che raccontano il suo soggiorno a Berlino, raccontano il suo periodo iniziale, quando era attratto a Venezia dai grandi pittori veneziani, Tintoretto. Poi abbiamo disegni che raccontano la guerra in Bosnia, recentissima, degli anni 90. Noi siamo andati a visitare questa rassegna alla Fondazione Emilio Vedova e Anna Bianca Vedova nei magazzini del Sale. E abbiamo realizzato questo reportage grazie alla collaborazione di Gianluca Zavanna. Subito dopo il reportage termina 7 in punto. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani mattina. Qui ci troviamo di fronte ad una collezione di disegni inediti di Emilio Vedova. Che collezione è? Beh, più che una collezione, una parte della collezione, cioè una mostra che la Fondazione ha voluto fare con grande soddisfazione per i dieci anni. Sono già trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Emilio Vedova e penso che esporre un percorso del suo disegnare dal 35, quindi aveva 16 anni, era un ragazzino prodigio, si dicevano all'epoca, fino al 2006, cioè uno degli ultimi lavori, un mese, due mesi, poco prima che lui morisse, un mese dopo Anna Bianca, che è una carta, un monotipo realizzato per Sandro Ramnick, nipote di Guggenheim, con cui avevano concordato un lavoro. Direi che forse è il modo più giusto, più corretto, anche più simpatico di ricordarlo, perché penso che lui disegnasse anche dormendo o in qualsiasi altra situazione, perché aveva sempre in mano il famoso pennarello, di cui scrivo anche nel catalogo alcune situazioni anche simpatiche con lui, perché era anche alla fine nel privato anche un uomo simpatico, anche divertente a volte. Come è cambiato il suo disegnare dai 15 anni al 2006? Allora, la mostra, qui volevo anche arrivare, riguardo appunto al suo percorso di disegno, l'abbiamo divisa in due parti, una prima dal 35 al 40 e l'altra appunto dal 40 al 2006. Nella prima parte, per rispondere alla sua domanda, noi troviamo i primi disegni che si riferiscono al suo essere nato e vissuto a Venezia, fino a quel momento, da una famiglia umile, suo papà Aaron in bianchino, lui e tanti fratelli per la casa, era una situazione abbastanza difficile, perché la famiglia era molto numerosa, le possibilità economiche erano poche, e lui ricordava sempre questi bidoni di colore nei corridoi, nelle case, nella sua casa, eccetera, e quindi si rifugiava nelle chiese in giro per Venezia e ha cominciato così. Con vari esempi, per esempio lavorava a San Marco con un fotografo e uno dei suoi capolavori giovanili, autorità del suo specchio a terra, lo fece tra una commessa e l'altra, in una rampa di scale, utilizzando i colori che lui andava a raccattare dai pittori veneziani di Piazza San Marco dell'epoca, eccetera. Cosa voglio dire con questo? Per rispondere alla sua domanda, che l'inizio del suo percorso aveva proprio a che fare con la Venezia barocca, con i suoi amori fortissimi di sempre, quindi Tintoretto prima di tutto, ma anche molti altri pittori veneziani e non solo. Quindi molto figurativo. Lui non amava dividere tra figurativo e astratto, anche perché lui dice, io non sono un pittore astratto, sono un pittore di realtà. Molto colore però e molto nero. Prego. Molto colore e molto nero al contempo. Però certamente sì, ecco. Quindi, per esempio, riferendosi a Tintoretto, perché lo amava? Lui lo amava prima di tutto, insomma, perché la posizione, diciamo, gli stratagemmi e le idee compositive, quindi le diagonali, i punti di fuga, eccetera. Era una pittura molto veloce, lui amava la velocità, infatti dopo questo periodo studiò e si accostò profondamente al futurismo, anche da parte sua, anche con un certo imbarazzo, perché in quegli anni il futurismo era, no, così il secondo futurismo almeno. Era un'etichetta politica. Sì, esattamente. Siccome lui era da un'altra parte, però il suo lavoro veniva prima di tutto, quindi infatti Morosini lo chiamava, vedo il futurista negli anni 40, ma era vero, insomma, perché amava la compresenza, la velocità, gli schianti, cioè la realtà nuda e cruda da affrontare, così come arrivava, anche i suoi amori, non solo Tintoretto, ma anche Goia, anche Van Gogh, tutti quegli artisti che avevano un contatto fortissimo con la realtà, con ciò che accade sotto i nostri occhi e sopra la nostra pelle, e quindi senza questo per lui non era quasi concepibile l'esperienza dell'arte, no? Quindi quando dipingeva, disegnava, il tratto caratterizzante era l'intensità? Sì, possiamo dire anche questo. Sapeva caricarsi di intensità, sì. E la seconda parte della mostra? La seconda parte va dal 40 al 41, quindi intanto non c'è uno sviluppo cronologico, no? Abbiamo messo insieme a Germano Cellant i disegni non in senso cronologico e uno accanto all'altro, no? Quasi a formare appunto un grande lavoro complessivo, no? Che è di 27 metri lungo, alto 3, e dentro ci sono 347 disegni che sono comunque anche una parte del suo percorso. Come li avete selezionati? Visto che sono una parte del percorso? Abbiamo cercato di coprire tutti i momenti significativi di questo viaggio, no? Dopodiché, invece, come installarli? Lì invece ci siamo forzati di rimanere nella casualità, cioè nel senso, no? Appunto di non lavorare con un aspetto progettuale razionale nel senso cronologico dello sviluppo, eccetera, ma di stare proprio dentro a quella che era una delle caratteristiche del pensiero e dell'essere vedova e cioè quello appunto della compresenza, della relatività e tempo di spazio e come faceva lui, no? Lui girava un'opera del 35 e diceva è uguale a un'opera del 2000 e tanto, eccetera, eccetera. Quindi lui amava questo spazio. Quindi avete creato un unicum alla fine? Sì, diciamo, un unicum di cui potremmo farne ancora di unicum. Anche adesso mi vengono in mente i suoi banchi di lavoro, no? Erano una cosa del genere, cioè lui aveva dei banchi lunghi 5, 6 metri, 10, no? E come studiava? Lui cominciava a stratificare immagini, libri, disegni suoi, immagini, disegni di altri, fotografie di tutto e di più oggetti e quando doveva mettere a posto, perché non si arrivava qualcuno piuttosto che c'era qualcosa da fare, metteva sopra dei fogli bianchi e poi ricominciava. Quindi si ritrovava, che è anche interessante in sé, con una stratificazione di suoi studi, delle sue cose, che in qualche maniera non sono esattamente questa cosa qui. Lei diceva che Emilio Vedova non si definiva un pittore astratto, però a colpo d'occhio per un profano uno dice beh, non può non essere un pittore astratto. Come vanno letti questi disegni? Come va letta l'opera di Emilio Vedova? Va letta secondo diciamo uno sviluppo storico, no? Tutto il suo percorso va a sapere il suo catalogo antologico, eccetera, e si può capire, no? Quindi quando lui dice non sono pittore astratto lo disse nei primi anni 50 anche per differenziarsi da altre correnti, no? Che facevano appunto dell'astrazione contenuti certamente interessanti, ma che non appartenevano alla sua natura e altre volte contenuti formali. Ecco, lui era, potremmo per semplificare aveva paura del formalismo, no? Stava da un'altra parte rispetto alle, diciamo, alle estetiche di un certo tipo, no? Tanto è vero che nei suoi studi per ricordarselo lui scriveva sempre ogni giorno, un giorno, ogni giorno sull'orlo del precipizio e quindi si dava la sveglia, no? A se stesso in questo senso per ricordare che appunto l'intensità di cui parlava lei prima deve essere il punto di partenza, no? Poi ci sono intensità e intensità certamente, no? Quindi era un descrittore della realtà attraverso il pennello di stampo anarchico? No, non era neanche neanche un anarchico lui era anzi un pittore molto strutturato aveva una certa paura secondo me questo che è stato da tanti anni con lui di non avere il controllo della situazione no? E di perdere la bussola anche proprio no? La famosa deriva lui non era un personaggio che stava alla deriva lui voleva possedere la realtà per quanto possibile no? E per quanto gli era concesso no? e i suoi lavori traslati in un aspetto diciamo del linguaggio esprimono esattamente questo no? Per quello quando si dice vedo informale si dice tutto sommato una sciocchezza no? Perché lui era un uomo di grande anche nei suoi lavori di grande precisione e di grande struttura però però a colpo d'occhio profano uno insomma sembrano quadri disegni destrutturate no? È difficile trovare una forma se non si entra in quella dimensione che l'hai ci appena descritto dell'intensità del colore del tratto della velocità del tratteggio Lo so però è un po' il discorso di sempre i profani dovrebbero approfondire un po' questo no purtroppo l'esperienza dell'arte capisco che oggi acquista anche altri diciamo altri aspetti certamente questo è anche vero però come tutte le discipline nella vita deve essere amata un po' anche questo non può essere un aspetto retorico formale ma l'esperienza dell'arte che ha a che fare con la vita degli artisti inutile fare nomi lo sappiamo molto bene l'artista è colui che si gioca tutta la sua vita per una ricerca per dare una risposta in qualche modo ai problemi del mondo sociale eccetera eccetera quindi è una partita molto grossa che gioca l'artista con se stesso ecco quindi bisogna cercare di capirlo Lei che è stato per anni vicino a Vedova come lo può definire che cosa ricorda di questo artista tante cose ma tante che non mi viene in mente nemmeno una volendoci dire chi è Emilio Vedova dal suo punto di vista così insomma studiamo anche con il pretesto di questa intervista chi è stato chi è Emilio Vedova adesso mi viene in mente una parola che è un esempio c'è un esempio di come stare dentro alla propria storia di voler dare un senso a quello che fai credere a quello che fai a quello che senti se per dire sì e no nella vita secondo quelle che devono essere sono le tue relative certezze relative convinzioni senza non era un uomo mondano era un uomo che diceva esattamente quello che pensava e si metteva sempre la diciamo la faccia in primis per primo e quindi con un certo coraggio con una certa forza direi che un contemporaneo è sempre stato un contemporaneo al suo tempo ecco anche il riferimento all'esperienza dell'arte mi ricordo che lui diceva senza un problema dove vuoi andare no dove va l'esperienza dell'arte no giusto e sì che i problemi nel mondo se ne sono tanti ecco quindi ecco riuscire ognuno anche nelle scuole insomma io insegno anche in accademia si parla spesso di queste cose anche con gli studenti a cui in un mondo come quello dell'oggi ti devi per forza riferire ma è anche difficile dare delle risposte no cioè riuscire a capire qualche cosa no quindi adesso non mi ricordo più cosa volevo dire ma è certamente il diciamo lo stare cercare di stare dentro una propria verità piccola o grande no ecco e fare tesoro di quello no ed è per questo alla luce sono dieci anni che Emilio Vedova è mancato un ciclo di concerti con Ceylant c'è un perché in questo ciclo di concerti c'è un perché legati a Cicoria sì c'è la fondazione il presidente hanno affidato al professor Messinis che tra l'altro era amicissimo di Emilio Vedova e quindi le cose sono sotto questo aspetto molto strette ha pensato di di prevedere tutta una serie di concerti che diciamo accompagnano questa nostra missione di diciamo di salvare di curare di promuovere l'opera di Vedova certamente la musica per Emilio è stata anche una parte importante a parte poi le sue diciamo collaborazioni con l'amico nono quindi Intoleranza Prometeo dove ce l'ho lavorato anch'io e le loro frequentazioni insomma continue quindi anche per problematiche simili eccetera eccetera ecco il professor Messinis ha pensato di impostare già dall'anno scorso abbiamo fatto una serie fantastica di concerti che hanno a che fare con un respiro anche vedoviano delle problematiche vedoviane sotto questo aspetto quindi siamo ben felici e contenti di questo quindi musica intensa e contemporanea sì esattamente esattamente